E well ragazzi come sempre è Travis che vi parla oggi Sono qui tornato con un nuovo video su Call of Duty Black Ops 3 Per portarvi un video su tutti i contro tutti Dove andiamo a fare due cose Allora la prima è completare il contratto questo qui giornaliero La seconda è sbloccare la mimetica malavita Come avete visto da ieri raga o da domani O come vedrete da domani lo so dipende da come pubblico i video Domani vedrete una partita o ieri avete visto una partita Insomma commentate a noi in live Dove praticamente facevo un devasto Cioè sono entrato in una partita già cominciata Penso che mi sia capitato raramente o quasi mai Di entrare in una partita già cominciata e fare un devasto epico Veramente epico Cioè se dico epico epico raga vi giuro è qualcosa di assurdo Ho chiamato quasi Trevright o una cosa del genere Comunque questo per dirvi che Cioè quel video è per farvi capire come Sbloccare in fretta la mimetica malavita Poi lo vedrete dal video oppure da ieri Insomma passate nel canale Comunque Questo da dove è uscito non si sa Arriva una mosca cazzo Non c'è un'ape scusate non una mosca Trevis non sa distinguere le mosche dalle api Comunque questo qui non è morto e va bene così Allora questo video si appunto Già l'ho detto che cosa serve Mi sono dimenticato di mettere post bruciatore ancora Cioè è incredibile Comunque ci mancano due kill Questo non l'ho detto però Mi sembrava abbastanza scontato Mamma mia tu sei veramente un giocatore Della madonna Cioè io mi sono dimenticato di mettere post bruciatore Io non so giocare senza post bruciatore Ok chiediamo lui raga Che tanto è un coglione Che non ci ha visto Per cui Lui lo chiediamo così E l'altro Ok Potevamo anche killarlo con lo specialista Però vabbè Ok Ok No non l'abbiamo sceso noi What? Ce l'ha fregato sto tizio raga Guarda come ci aspetta Dai che figlio di puttana Raga stiamo anche perdendo Ma che partita del cazzo Il tizio che mi scavalca da solo Perché È un coglione E mi scavalca da solo Eh vabbè Dai poi questo sdraiato Cioè ma Poi sto perdendo per questo motivo Vabbè mi si è schiacciato Da solo il tasso del fuoco E questo mi ha anche beccato Ripernegato Bene bene Mi piace Mi piace la cosa Oh yes C'è uno qui Perfetto Ma vai Cagare Ok dovrebbe essere Spanato alle spalle Perfetto Era fermo Comunque raga Dovete calcolare che io Sto giocando Cioè vabbè Dai basta 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 Cioè Sei anche italiano Giusto orsetto Devo chiamare Cioè madonna Santa Oh Ma vai a cagare Va Eh bravo Che ti devo dire Ero ferito Un culo Vabbè Comunque ragazzi Per quanto riguarda I video Per fortuna Stanno Stanno uscendo bene Perché comunque Cioè stanno uscendo bene Mi stanno uscendo bene Le idee Quello intendevo Questo qui Nipfire L'abbiamo ucciso Proprio per Per umiliarlo Eh ti pareva Che non ci stava Il cogliana Ad aspettarmi Ti pareva Ti pareva Ti pareva Ti pareva Ti pareva Ti pareva Madonna Non riesco A uccidere Questo Porca puttano È tutto il giorno Che gioco Per fare quella Cazzo Dimmi medica Che ci ho messo Un giorno Per farla Seriamente Ragazzi Non me Se mi uccidevi Le urla Arrivavano Fino ai vicini Giuro Porca puttana L'ho smirato Malamente Ma tanto Cosa ti aspetti Lì è quello Che piazza Le mine Quindi Cosa ci aspettiamo Da lui Alla fine Allora 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 Vediamo Dicidere qualcuno Con il reaper Tu fuori Tu pure fuori Oh Mio dio Faccio il miracolo Faccio il miracolo Raga Sto movement Di merda Fatto a cazzo Di cani Che si muovono A caso Non lo sanno Neanche loro Come fanno Il mio reaper Che non aggancia Un cazzo Boh Agli altri aggancia Tutto Comunque siamo pari Io non ho intenzione Di perdere Quindi vediamo Di muoverci Esplodono cose Non ho intenzione Di farmi uccidere Da te Sappilo Sicuramente Sei anche quello Che sta vincendo Ok In area 1 Questo lo uccidiamo Così No Io il reaper Non lo so Non è vero Che non lo so usare Perché alla fine Quasi tutta la sfida L'ho fatta con il reaper All'ultimo L'ho fatta con il blackjack Veramente Oh cazzarola Basta Non lo uso più Il reaper Non me ne frega Un cazzo Giuro Vedete L'ho usato Basta Ora farò le kill Senza saltare Neanche Vaffanculo Va Dai Basta Su Veramente raga C'è una partita Di merda Lasciate perdere Adesso ce ne facciamo Un'altra Quasi quasi Sì raga Ce ne facciamo un'altra E vediamo di portare Una partita migliore Ok raga Siamo in lobby Ecco la malavita Mettiamola subito Sul WMP Che andremo a usare Nella prossima partita Guardate che figata E' proprio E' proprio figa comunque Sta mimetica qua Va bene ragazzi Aspettiamo che cominci la partita E poi ci becchiamo appunto In partita Ok raga Seconda partita Sempre su combine Sempre stessa lobby Come avete visto da prima Il nostro Arrimo nemico E Conrad 5800 Perché Così perché Prima è arrivato secondo Quindi Comunque la mimetica Eccola qui raga Non abbiamo tempo per Ammirarla bene Ecco appunto Mi sono fatto ammazzare Come un cretino Per ammirare la mimetica Di merda Tu già mi stai sul cazzo Quindi muori Oh Mi sono Oh ci credete Che mi sono dimenticato Di nuovo Di mettere post bruciatore Raga sono proprio Un rincoglionito Del cazzo No raga Non la vinco Io sto partita Io su combine Senza post bruciatore Non ci so proprio fare Perché io devo saltare Cazzo Viene proprio spontaneo E dato che sono abituato Cioè è proprio uno stile di gioco Capite Dato che sono abituato Ad avere sempre il boost Pronto Non averlo È una merda Eh guardalo Eccolo Conran Eccolo Si riconosce dal moment E infatti mi uccide raga Sembra una cazzata Sembra che Dici vabbè Un perk Cosa vuoi che sia Se ce l'hai o non ce l'hai Eh però è un perk importante raga Eccolo adesso mi riuscite tanto Poi lagga anche Ok abbiamo la corazza stavolta Stavolta Conran non ci Non ci batterà cazzo Ne è scimato dopo un po' No più che altro raga E il fatto è che Non ho i perk che mi piacciono a me Quindi che cazzo gioco a fare Cioè nel senso Boh È come giocare con un account Che non è il tuo Non Boh La stessa cosa raga Sinceramente Dove Eh Muovate Naffanculo va Entra da qui Entra pure da qui però Ecco Conran Ormai siamo Rivali per la vita raga Ah ero convinto fosse lui Quanto mi sono rotti i coglioni Oh Mamma mia Pitte di merda Pippe di merda Ecco Conran mi uccide Va bene va bene Il nostro cerrimo nemico Ti frego la kill e ti ammasso anche Cioè proprio per Madonna quanto odio stare lì sotto Non riesci Ovviamente io scelgo la parte sbagliata dove andare Mamma mia Mamma mia Ah Maledetto Maledetto cane Mamma io quando c'ho la corazza Tutti in testa mi viano Diventano tutti Tutti in sesava Amage Perfetto Eh raga Sto concentrando un po' di più Ok una kill ce la prendiamo Eh vabbè Eh vabbè lo sapevo di morire Però volevo prendermi almeno una kill Almeno una raga Ok Altrimenti Erebbe stato brutto Comunque la medica non me la sto godendo per niente Perché non ho un minimo di tregua raga Assendo su combine Ok Oddio chi era Non si sa raga Non si sa Non si sa chi era Andiamo subito a killare Eccolo qui Surprise Motherfucker Oddio sono messo di sparare come un po' fosse morto Mamma mia raga che kill cam Va bene Va bene così Va bene così 30-11 Non sono state due partite buone Però Che devo fare ragazzi Comunque la medica è davvero davvero figa Ecco adesso nella kill cam ammiriamola Guardate che cazzo di kill cam In tripla proprio Eeeh In tripla Perché non si sa La tripla in kill cam volevo dire Comunque ragazzi Io spero che il video vi sia piaciuto Se è così lasciate un like Un commento Fatemi sapere la posta su questa medica Se l'avete sbloccata Se non l'avete sbloccata Come l'avete fatto a sbloccarla Eccetera Noi ci becchiamo domani Con un prossimo video Qui da Revis E' tutto E bella ragazzuoli E' un prossimo video 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 E' un prossimo video